Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di cura la natura. Oggi vi porterò con me alla scoperta di un'antica tradizione, i fichi essiccati al sole. Un modo semplice e genuino per gustare tutto l'aroma e la dolcezza di questo frutto estivo, conservandolo per i mesi più freddi. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un semplice like e di iscrivervi se vi piacciono questi contenuti. Grazie mille e buona visione. Il primo passo è scegliere i fichi giusti. Devono essere maturi al punto giusto, con la buccia leggermente morbida e il profumo inconfondibile. Dopo averli raccolti, li selezioniamo accuratamente, scartando quelli che non sono perfetti. Quelli già appassiti si possono essiccare interi, oppure si devono tagliare i fichi a metà, nel senso della lunghezza, e posizionarli sull'essiccatore. In questo caso stiamo usando i cannizzi, detto in dialetto calabrese. Nel canale troverai dei video per costruirli. A questo punto coprirli e posizionarli in un luogo dove prendono il sole per tutto il giorno, girandoli almeno due volte. La sera ripararli dall'umidità portandoli in casa. Dopo qualche giorno, quando saranno completamente secchi e raggrinziti, si possono conservare creando le varie ricette, come le crocette, al rum, al cioccolato e molto altro. Così facendo, si evita la formazione di insetti o muffe. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia ispirato a provare. Se è così, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale Cura la Natura per tante altre ricette e consigli. Alla prossima!